Si è svolto sabato pomeriggio alla Casa degli Italiani di Montevideo l'ottavo festival dei cori organizzato da Voce e Pensieri, il gruppo corale di Effasce, l'ente friulano dell'Uruguay. Cinque cori che hanno partecipato all'iniziativa, oltre a quello friulano, Joaquin de Viana del Dipartimento di Maldonado, Rosas de Otonio di Canelones, Voces del Buseo e Siembra, entrambi di Montevideo. È veramente un spazio molto molto importante per noi, tutte le persone che avevano la possibilità di cantare in forma insieme e fare la musica insieme ai altri, verdaderamente si fanno lazos molto di humanità, di molta fraternità e solidarità. L'interno dell'attività sociale e culturale delle Fasce in Uruguay, principalmente una presenza costante dell'attività della musica, del canto e principalmente questa particolarità dell'attività collettiva. Noi Noi Grazie a tutti.